benvenuti amici salve mi chiamo francesco iaderista e si sto facendo questo video da santa rienzo io sono di san felice a cancello e sono nato a praia mari 19 luglio 1973 questo video parliamo dei linguaggi per i ciechi e per i sordomuti quindi linguaggi lis il linguaggio lis e linguaggio braille tutto iniziò a potenza perché praticamente quando ero ragazzino 14 15 anni 14 anni andai in un collegio si chiamava collegio principe di piemonte di potenza in questo collegio c'erano dei bambini sordomuti io tenevo 14 15 anni e quindi praticamente siccome io mi rivolgevo questi bambini con linguaggio dei segni linguaggio napoletano praticamente io ho insegnato a questi bambini a parlare con con i gesti e quindi nacque il lis che praticamente mi sono fatto aiutare per il linguaggio lis da mia nonna materna ingegnere elettronica antonietta miele che ha inventato insieme a me il gli auricolari per i sordomuti questa qua è mia nonna materna ingegnere elettronica antonietta miele era ingegnere elettronico tedesco è venuta dalla germania proprietaria dell'opel dagli anni 60 quindi negli anni 40 si chiamata antonietta miele si aveva un nome e cognome tedesco negli anni 60 nel 62 si effingevano alfabeto altrimenti uccidevano i figli soprattutto mia mamma e i nipoti quando sono nati i nipoti io sono nato nel 73 vi ho detto e quindi praticamente con ho inventato io il linguaggio dei segni i primi segni e dopo lo hanno fatto questi qua dell'amplifon che è un'azienda mia adesso è diventata mia anche la polaroid che praticamente prima faceva macchine fotografiche istantanee inventando io e mia nonna la macchina fotografica elettronica quindi quella la con la scheda sd con la penna usb abbiamo fatto fallire la polaroid e quindi ho comprato sia la polaroid che la kodak a prezzo ragionevole perché l'azienda aveva diminuito le vendite quindi sono inventato io il lis e dopo quando mia nonna è mancata nel 91 ho inventato pure il bra il linguaggio di programma di linguaggio per esprimere dei ciechi di quelli che non possono vedere io ho inventato questo qua il bra il le prime lettere sarebbe la la b la c dopo gli altri hanno inventato le altre lettere i numeri pure ho inventato io però siccome era un pochettino era un pochettino pigro non ho inventato tutte quante le lettere le ho fatti inventare da quelli la della carla zeiss che è un'azienda mia quindi mi chiamo così mi chiamo francesco vi saluto e tante belle cose